ragazzi oggi vi voglio parlare di questo che cos'è questo è un telo protettivo per la bici che lo potete acquistare dal Declaton a circa 10 euro 9,99 costa adesso allora vedete questo come si monta aspettate che ve lo apro ve lo faccio vedere meglio allora iniziamo con questa questa è la sacchettina che può essere utilizzata come porta borraccia come fa vedere qua la nostra descrizione vedete mettete come porta borraccia sul manubrio e questo è il telo a che cosa serve questo serve quando fate i rugli a casa soprattutto adesso che è d'inverno a non far cadere il sudore sulla bici per non rovinare il telaio così il sudore cade qua e mantiene la vostra bicicletta pulita ma anche più nuova perché il sudore è acido e quindi si può rovinare col tempo vedete quest'altra parte è in modo che qua assorbe e qua non lo fa cadere vi faccio vedere come si monta ok guardate io ora lo monto perché oggi faccio i rulli guardate questi ha gli strappi io ora con una mano lo monto così poi qua c'è un elastico che voi lo regolate in base alla lunghezza della vostra bici qui ok ci sono riuscito con una mano sono stato bravo ok vedete in modo che non cade il sudore sul telaio ora sta un po' avanti poi dopo lo regolo bene con una mano e voi potete fare i rulli benissimo con questo costa 10 euro al declano ragazzi è ottimo per fare i rulli a casa soprattutto adesso che viene all'inverno ok spero che quest'altro video vi sia piaciuto e mi raccomando come al solito iscrivetevi al mio canale e gratis ciao ragazzi al prossimo video